Prendi le carte adesso, io non posso sapere niente delle tue carte, giusto? Ora cosa devi fare? C'è solo una prassi, perché tu farai a me il Berglass F, il sogno di tutti. Guarda tu stesso, le prime due carte le metti sotto, la prossima la butti giù e la prossima sotto e vai avanti così, fino a che vuoi tu. Fino a quanto voglio io, giusto? L'importante è che tu senti la situazione quando vuoi tu. Ora cosa succede? Di questo che tu fai, quando tu ti fermi, lo dici tranquillamente, non vuoi sapere perché il numero è solo tu, è solo silenzioso nella tua mente, ora metti a caso che tu hai buttato giù, che vedi le carte giù, sono otto, faccio un esempio, tu cosa fai? Prendi il mazzo, lo giri di faccia e guardi l'ottava carta. Ok, adesso hai fatto un po' di questo caso. Non voglio sapere, no? Sì, sì, ok. Ci sei? Aspetta un attimo. Conta quante carte hai buttato giù. Ok, adesso lo devo contare. Scorri, scorri la carta e guardi il numero della carta corrispondente. Fatto? Ok. Chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto. Metti sopra il mazzetto, prendi sopra, guarda, prendi tutto il mazzo in mano, prendi tutto il mazzo in mano. Adesso ascoltami benissimo, che numero era il numero che hai messato? Solo per sapere, per curiosità. Quante carte abbiamo messo? Sì, quante era così, per sapere. Dove carte hai messo? Ok, perfetto. Adesso, porta giù quante carte vuoi tu da sopra il mazzo, vai. Così? Sì. Ok. Ok. Ok, io non posso sapere niente di quel mazzo, allora io, tu dimmi a me, io ti faccio Stefano il Bearglass Effect Mondiale, dimmelo. Ok, io Stefano ti faccio il Bearglass Effect Mondiale. E devi dire, quello che non toccherò mai il mazzo di carte. Quello dove non toccherò mai il mazzo di carte. Ok, appoggio il mazzo di carte, abbassa la camera che si vede che appoggi il mazzo di carte. Perfetto, ora io dico una carta. Donna di picche. Ora tu chiedimi il numero. E che numero vuoi? Va, 29. Ok, allora? Gira, di faccia, di faccia, perché devono vedere tutti lì. No, 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 prendi il mazzo, prendi il mazzo di mano. Ok. Appoggio il mazzo di faccia, il mazzo. Gira di faccia. Così? Sì, sì, sì. Perché ti spiego perché. Perché hanno pensato anche che faccia le doppie prese. Allora, butta giù. Vado? Vai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Dicinove. Venti. Ventuno. Ventidue. Ventitre. Ventiquattro. Venticinque. Ventisei. Ventisette. Ventotto. Ventinove. Oddio. Oddio. È impressionante. L'ho fatto tutto io. Tu mi hai fatto il burglas F. Oddio. È impressionante. È incredibile. Vici. Vici. Deci. Vici. 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 Grazie a tutti.